E vediamo quindi, legge d'attrazione, come attrarre amore nella nostra vita. Allora, il simile attrae il simile, diciamo che da questo punto di vista questa è un po' l'essenza della legge d'attrazione. Per cui devi tenere presente che tu sei il creatore del tuo nuovo mondo, ama te stessa, amare se stessi, significa mettere le basi, mettere le fondamenta per attrarre un nuovo amore. Attrarre anche benessere fisico, mentale, insomma possiamo attrarre quello che vogliamo imparando a diventare quello che vogliamo. Imparando a desiderare nel modo giusto, imparando a desiderare con il distacco dal risultato. Ricordo intanto a chi volesse entrare in chat che basta che faccia l'abbonamento e può tranquillamente entrare in chat come Lola, come Angela Giordano, posso iniziare a scrivere in chat, quindi fate gli abbonamenti così entrate in chat. Allora, è importante quindi desiderare nel modo giusto. La legge d'attrazione si basa proprio sul desiderio, desiderio, desideris, viene dal latino, e vuol dire smettere di dipendere dalle forze astrali, desideris. Sei abbonato, sei abbonato. Quindi non avere più, diciamo, non essere più dipendenti dalle forze astrali. Noi desideriamo, invece, purtroppo, quando ciò che abbiamo non ci sta bene, quando vogliamo un cambiamento profondo e quando non ci accontentiamo di quello che abbiamo. Dobbiamo imparare a desiderare nel modo corretto. Questa è un po' la base della legge d'attrazione. Immagina, ad esempio, di avere davanti a te uno spazio luminoso, che vuoi un luogo spazioso, che vuoi riempire con cose nuove. Per la legge d'attrazione devi soltanto imparare a desiderare. Desiderare, quindi, senza attaccamento, desideris, non avere dipendenza dalle stelle. Questo è il punto fondamentale. Devi, oggi, costruire la tua rinascita se vuoi ottenere qualcosa. È molto importante imparare a costruire a se stessi se vogliamo ottenere qualcosa. Quello che hai sempre considerato destino, perché ci sono persone che hanno sempre considerato destino, no? Ah, sono sfortunato. Uh, mi vanno tutte storte. Ih, non riesco a trovare nessuno. Quello che tu, cara Marga Shona, hai sempre considerato destino, è costituito, diciamo, invece, da semi, che tu in qualche momento della vita, salutiamo anche Liana, di questa vita o di altre vite, ma già, facciamo riferimento a questa vita, hai seminato. E quindi vivi una delle infinite potenziali situazioni che l'universo metterebbe a tua disposizione. Quindi ogni volta che noi esploriamo un evento, viviamo una situazione, salutiamo Liana, viviamo una situazione, è una delle tante che potremmo vivere. Ma il passaggio, diciamo, da una situazione all'altra dipende certamente da noi, non dipende da altri. E quindi invito tutti, eccola qua, Noemi Puglia, che è successo, che vuol dire? Che vuol dire che è successo? Boh, non lo so. E quindi quello che hai sempre considerato destino, in realtà assolutamente non è destino. Devi imparare, diciamo, a cambiare un po' la prospettiva, a modificare un po' le cose, a cambiare, perché altrimenti sarai dipendente dalle stelle. Invece desideris vuol dire non essere più dipendente dalle stelle. Questo è importante, non essere più dipendente dal destino. Devi uscire fuori dal destino. Allontana le stelle. Hai il potere di costruire la tua vita. Se il mondo che ti appartiene, se il mondo che esperimenti non è quello che tu vorresti, devi cambiare le azioni che fai. Tutti a bisticere per mancanza di ieri, boh? No, ma è perché non manda le notifiche, Befana, YouTube, non manda le notifiche su questo canale. Infatti, io non voglio più fare chat live, perché siccome faccio tanti video, YouTube non manda più la notifica, perché YouTube manda al massimo tre notifiche al giorno. Siccome su questo canale di video al giorno ne usciranno sette, otto, cinque, sei, insomma, ne escono diversi, e agli altri non escono più, non vengono più le notifiche. Quindi se tu mandi un video, nel tempo, diciamo, viene visto, perché poi ci sono altri sistemi oltre alle notifiche. Però, per quanto riguarda le live, siccome la live deve essere immediata, l'unico sistema è la notifica. Quindi fare... Perché sei accecata, sei vecchia, non lo vedi. Angela Giordano, no, no, per i maroni, malgaciona, non lo vedi perché sei vecchia, e sei senza occhiali. Metti gli occhiali, lo vedi il cerchietto. Quindi, tornando al discorso di prima, purtroppo YouTube non manda le notifiche, ne manda tre al giorno, e non so che cazzo li costa. Tutti gli altri social ne mandano anche 500 al giorno, TikTok, Instagram, YouTube è limitato. Buonasera, Angelica Romano, dobbiamo fare l'intervista, cara Angelica, Noemi Puglia. Allora, quindi ricordo che chi volesse entrare in chat, basta che si abbona e può scrivere in chat. Tanto qua l'abbonamento è veramente da un euro e qualcosa al mese. Oh, buonasera anche Andrea Giovani. Quindi, inizia a diventare responsabile della tua vita. Le tue, quello che tu stai vivendo, le tue emozioni, i tuoi pensieri, hanno attirato le cose che tu stai vivendo. E quindi non devi lamentarti se sperimenti qualche cosa, perché in qualche modo hai contribuito a vivere quello che, a sperimentare quello che stai vivendo. Diciamo che pensare di essere responsabili della propria vita è già una sensazione, dovrebbe essere una sensazione positiva. Perché da un lato, diciamo, ti porta a smettere di sentirti vittima. Ti porta a smettere di sentirti vittima del mondo, di sentirti vittima del destino, di sentirti vittima dell'universo. E dall'altro, imparare, diciamo, a creare il proprio destino e non pensare che ci sia già qualcosa di predeterminato, ti apre ad infinite possibilità. Le infinite possibilità che l'universo offre. Perché, ripeto, nella configurazione di universo che noi stiamo vivendo in questo momento è una delle tante possibili configurazioni. Perché se avessimo fatto scelte diverse, avessimo avuto pensieri diversi, avessimo fatto azioni diverse, avremmo sicuramente vissuto e vivremo una vita diversa. Non è mai troppo tardi per essere felici, non è mai troppo tardi per attrarre amore. E dobbiamo, quindi, metterci delle energie. Quindi smettiamo di lamentarci sentendoci vittima del mondo, vittima dell'universo, vittima del destino. e due cose sono da eliminare dalla tua vita fondamentali. La paura, la paura di non riuscire, la paura di non agire e il senso di colpa. Perché la paura è un, come dire, un meccanismo che ti ipnotizza. Non c'è niente di più ipnotico della paura. La paura ti impedisce di vedere nuove possibilità. La paura ti impedisce di fare delle cose. E il coraggio non è il contrario della paura. Il coraggio è la capacità di agire nonostante la paura. Quindi noi possiamo avere paura di tutto. La paura di essere abbandonati, la paura di essere rifiutati, la paura di non riuscire, la paura del fallimento. E tra queste paure ce n'è una che è proprio estremamente negativa che è il senso di colpa. Cioè la paura di fare del male a persone care attraverso le tue azioni oppure la paura di fare del male a te stesso attraverso te stessa, attraverso le tue azioni o le tue mancate azioni. Quindi la paura di cambiare, la paura di abbandonare le certezze, la paura di non meritare, la paura di non essere all'altezza. ecco, tutte queste paure, diciamo, ti creano una gabbia, una gabbia dorata, ma pur sempre una gabbia. Ciao Marcella! Ma pur sempre una gabbia che ti impedisce di ottenere dei risultati. E quindi dobbiamo imparare a riprogrammare per sviluppare la legge dell'attrazione. Soprattutto a riprogrammare la mente inconscia. perché è la mente inconscia, è la nostra parte profonda che manda, che manda, diciamo, energia vibrazionale all'universo. È la nostra parte emotiva, non è la parte logica. E oltre alla paura bisogna anche abbandonare i sensi di colpa perché i sensi di colpa non ti consentono di cambiare la tua vita, sono come delle zavorre. Un saluto a Roxy! Ciao Roxy! I sensi di colpa sono come delle zavorre che ti tengono legata a una situazione. Sono come delle zavorre che ti impediscono di andare avanti. E come, diciamo, sono dei pesi che ti porti sulle spalle, no? Il senso di colpa è un peso, un peso che ti porti sulle spalle. Oh, abbiamo anche Francesca Zetta. Ciao Francesca! È un peso che ti porti sulle spalle che ti impedisce di fatto di poter, diciamo, fare delle cose diverse, fare delle cose nuove. E allora i sensi di colpa vanno lasciati lì dove sono, vanno abbandonati. Nel buddismo in Ayana, che è la piccola via, si dice una cosa molto semplice. Vuoi essere felice? Molto semplice. Abbandona tutto ciò che ti rende infelice e promuovi tutto ciò che ti rende felice. Questa semplice regola è un po' la chiave di tutto, no? Poi uno dice, ma come faccio ad abbandonare il lavoro? Ma se tu abbandoni il lavoro che ti rende felice ne troverai un altro. Cioè, ne troverai un altro, non devi avere paura, perché la paura di nuovo ti paralizza. Quante persone non lasciano il lavoro che non gli piace perché hanno paura di non poterne trovare un altro migliore? E come dicevamo all'inizio, sono le paure che ti bloccano. Non ti piace il lavoro? Lascia sto lavoro! Se non ti piace e sul lavoro arriva la nostra green apple. Eppure tantissime persone sono lì, eh, ma come faccio? Poi troverò un altro lavoro. Come farò? Oppure, che ne so, persone che dicono, eh, ma se lascio il tipo, la tipa, non riuscirò a trovarne un altro. Purtroppo, eh, dobbiamo tenere presente questo fatto che sia le paure in generale, sia i sensi di colpa, ti distruggono eh, totalmente. Quindi devi imparare a perdonarti. I sensi di colpa te l'hanno inculcati nella tua infanzia. Più che inculcati, direi inculati ati nella tua infanzia. E hanno creato fondamentalmente i sensi di colpa, hanno creato dei paradigmi mentali, cioè dei paradigmi attraverso la quale tu vedi il mondo. E quindi devi imparare a perdonarti. E questa è la cosa fondamentale. Bisogna imparare a perdonarsi. Perché se non impari a perdonarti, eh, non riuscirai a raggiungere esattamente. Eh, beh, brava Angelica, hai lasciato tutto quello che non ti rendeva felice. Questa è la cosa fondamentale. E un'altra cosa che dovete imparare a fare, un'altra cosa che dovete imparare a fare, qual è? E imparare ad avere un dialogo, imparare ad avere un dialogo positivo nei vostri confronti. Avere un dialogo positivo vuol dire che devi esprimere quello che vuoi e non quello che non vuoi. Perché se tu dici io non voglio una cosa, bene, e allora quella cosa lì manderà un messaggio all'universo per avere quella cosa lì. Questo è un punto fondamentale. scrivi desideri verificabili, precisi, non desideri generali, ma vai nel particolare. Più fai focus, la legge dell'attrazione è una legge vibrazionale. Più, oh, ce la saluto anche a Victoria, più impariamo a fare focus, più otteniamo dei risultati. E non fare neanche paragoni, non paragonarti neanche ad altre persone, perché se ti paragoni ad altre persone non ha senso, il paragono in generale lui è più bello di me, lui è più bello di me, ma è una persona diversa, quindi è come dire, vada, pensate, non riusciamo a paragonare le mele con le pere e paragoniamo gli esseri umani che sono completamente diversi, ognuno intanto ha un suo imprinting, una sua storia, un suo vissuto, una sua cosa, e certo, cioè, se tu nasci, che ne so, in un certo contesto, piuttosto che in un altro contesto, vivi una vita completamente diversa, no? Quindi non ha nessun senso imparare, cioè, fare dei paragoni con altre persone, e questo è molto importante. Allora, impara, quindi, primo esercizio a definire, impara, questo esercizio a definire, Massimo, ma tu sei ricco? Ma, dipende cosa si intende, dipende cosa intendi per ricco, potrei essere ricco per alcune persone, potrei essere povero per altre, per me sono ricco perché faccio quello che mi pare, questo è il concetto di ricchezza, no? Secondo me, e lo diceva, e lo diceva anche, diciamo, lo diceva anche qualcun altro, però, devo togliere la moderazione a chi non è moderato, bisogna imparare a, dovete, dovete abbonarvi, a proposito di ricchezza, spendete un euro e abbonatevi, vedo molte persone che scrivono che non sono abbonate, quindi abbonatevi, chi non fosse abbonato, perché devo togliere la moderazione, se no, quindi, tanto qua l'abbonamento costa un euro, quindi approva anche dei poveri, diciamo così, lo diceva Rockefeller, può darsi che diceva Rockefeller, e questo, e questo è la verità, no? Nessuno è mai ricco, nessuno è mai povero, ma, sì, ma dipende quello che, dipende dai tuoi obiettivi, no? Cioè, io credo che sia ricco chi fa la vita, eccola qua, brava Letizia, benvenuta, fa la vita, diciamo, da ricco chi riesce a fare le cose che gli piacciono, per esempio, se una persona, diciamo, ha un tenore di vita alto, ma per quel tenore di vita alto fa un lavoro che non gli piace, sarà una persona povera, perché il tempo che ha a disposizione non gli sarà, non gli sarà, diciamo, sarà sprecato, no? Come le persone che vanno a lavorare, quasi tutte le persone che io sento, vanno a lavorare a lunedì mattina e dicono, ah, speriamo che venga presto venerdì, perché è appena iniziata la giornata, a lunedì mattina dicono, ah, speriamo che venga presto venerdì, e poi venerdì dicono, ah, tanto questo weekend se ne volerà via in fretta, allora, ma sei un coglione! Le persone che vanno a lavorare a lunedì, sperando che venga presto venerdì, meriterebbero, diciamo, di essere bruciate al rogo, di essere impalate nel palo più alto della nave, perché come fai a essere così, coglione, che tu lunedì speri che venga presto venerdì, speri che venga presto venerdì, perché fai un lavoro di merda, che ti fa schifo, ma forse anche un lavoro che ti fa guadagnare quello che tu vuoi, sei un morto di fame, sei, come dire, sei veramente un morto di fame, sei veramente un pezzo di merda, diciamo così, nei confronti di te stesso, eh, eh, questo è, oppure quelli che dicono speriamo che arrivi presto alla pensione, vanno alla, e speriamo che vai presto nella tomba, così ti togli dei coglioni e smetti di cagare il cazzo agli altri, no? Quelli che dicono, perché al fine è così poi, quelli che dicono speriamo che arrivi presto alla pensione, impiccati, così arriva subito la morte e ti togli dalle balle, cioè, saluto anche a Sara Rossi, cioè, questo modo di ragionare, è, diciamo, il contrario della legge d'attrazione, è la cosa che, che è fondamentale, ma sì, ma quelli, ci sono quelli che si lamentano che in estate fa caldo, che in autunno piove, che in inverno fa freddo, però il problema è che, vabbè, cioè, sono tantissime le persone che fanno una vita di merda, fanno una vita di merda, e, e, cioè, vivono, lavorano, lavorano, diciamo, fanno lavori che non gli piacciono, e non ne cercano altri, ma che guadagnano poco, tanto, sono dei pezzenti comunque, fossero anche persone che guadagnano, che ne so, non lo so, cifre alte, sarebbero dei pezzenti comunque, perché stanno buttando via la loro vita, quelli che vivono, sperando che arrivino presto le ferie, oppure che arrivi presto il venerdì, quando è lunedì, ti dici, come stai oggi? Eh, beh, oggi è lunedì, come vuoi che stia, e che cazzo vuoi, coglione, vatti a cercare un altro lavoro, deficiente, che non sei altro, eppure è pieno di deficienti, che continuano, a fare cose che non gli piacciono, magari per, che ne so, per i soldi fondamentalmente, e quindi, e quindi, questo è un qualcosa, è un qualcosa, diciamo, di estremamente negativo, no, fondamentalmente, eh, quindi, bisogna imparare, diciamo, a fare anche delle azioni, no, perché legge attrazione, è come dire, prevede anche che tu fai delle azioni, non è che tu puoi sperare che le cose ti capitano, o che non ti capitano, devi imparare a creare il tuo universo personale, devi imparare a creare la tua vita personale, ma per fare questo, devi anche agire, non puoi sperare soltanto, saluta warm all, non puoi sperare soltanto che la vita proceda, diciamo, tra, come dire, tra una vacanza, una ferie, l'altra, tra un weekend e l'altro, perché quello è una piccola parte della tua vita, il segreto, è quello di vivere bene, la maggior parte dei giorni, come quelli che dicono, mi metto a dieta, no, eh, cioè, non ti puoi mettere a dieta da Natale a Capodanno, perché da Natale a Capodanno, magari, è il momento che puoi mangiare, a dieta devi stare da Capodanno a Natale, cara, malgasciona, perché quelle che dicono, ah, mi sono messa a dieta da Natale a Capodanno, sei giorni all'anno di dieta non servono un cazzo, quei sei giorni all'anno lì, sono i giorni che invece potresti mangiare, sbaffare, puoi stare a dieta, diciamo, seguire un'alimentazione decente, da Capodanno a Natale dell'anno prossimo, questo è, il segreto è quello di agire, se tu vuoi dimagrire, e mangi come una fogna, ingrasserai come una zampogna, fa pure rima, se mangi come una fogna, ingrassi come una zampogna, e lì non c'è legge d'attrazione che tenga, cara, cara ampana, non c'è legge d'attrazione che tenga, perché diventerai una botte, no? Poi quando andrai in spiaggia, poi si, eh, vanno in spiaggia, certo che ti dicono cos'è, la balena bianca, magari i primi giorni della spiaggia, che vai a fare il bagno, sei pure, sei pure bianca, e quindi vedono la balena bianca, Moby Dick, no? La grande balena bianca che si è buttata a mare, ma è per forza, perché hai mangiato come una fogna, diciamo, da Capodanno a Natale, e poi magari ti sei messa a dieta da Natale a Capodanno, no? E' così, e poi ad esempio, se per, rimanendo sul cibo, per dire, no? Ci sono quelli che si sbafano, delle sfette di torta, da 75.000 calorie l'una, e poi pigliano il caffè, e dicono, ah, ah non mettono, non lo prendono neanche senza zucchero, perché senza zucchero, non va neanche bene, ci mettono il cosino dolcificaio, metto il dolcificante nel caffè, mettono quella pallina di merda, dentro il caffè, sperando che mettere la pallina di merda dentro il caffè, diciamo, li faccia di magri, quando sono sbafati, diciamo, bignè, profiterol, hanno mangiato, diciamo, come delle fogne, e poi vanno a fare, e questa è una legge di attrazione, cioè, quella è, cioè, è certo che è legge di attrazione, stai mettendo in atto dei comportamenti, che per attrazione ti faranno diventare una botte, va bene che botte piena, come dire, la botte piccola, io non mi ricordo così, però, ma non importa, allora, se la balena piace, allora, questo non è, Diana, carampana, allora, Diana, no, Diana, carampana, non c'entra che la balena piace, allora, se il tuo obiettivo è diventare una balena, allora, mangiti, sbaffati, baratto di Nutella, tutto il giorno, no, carampana che non sei altro, il fatto che uno vuole, il problema qual è? Che quelle persone lì vorrebbero essere magre, perché se uno vuole essere grasso, non ha mica nessun problema, io non sto dicendo che è meglio essere magro, è meglio essere grassi, però, se tu vuoi essere magro, la legge, stiamo parlando di legge di attrazione, no, befana di una carampana, se tu vuoi essere magro, devi, diciamo, non è che devi attrarre, sperare lì che diventerai magro per miracolo, non è che il miracolo te lo fanno, se tu vuoi diventare magro, se tu vuoi diventare magro, devi smettere di mangiare, mangiare poco, mangiare bene, mangiare equilibrato, mettere meno energia dentro di quella che consumi fuori, perché poi alla fine, tra metabolismo e lavoro, certo, se tu invece vuoi diventare grassa, continuati a mangiarti ste bustone di merda e che diventerai grassa, diciamo, no, e questo è la cosa fondamentale, no, perché la legge di attrazione prevede anche delle azioni, non potete sperare, quelli che si fermano al pensiero, ah, io voglio attrarre, voglio attrarre un cazzo, le persone che attraggono sono quelle che si fanno il culo, che mettono energie, che mettono, che mettono, diciamo, che mettono sforzi, che vanno in quel continuo, ma sì, ma poi certo, tu devi fottrati, Angelica, tu devi fare, mangiare quello che ti piace, cioè, ognuno deve fare che cazzo vuole, e solo se fate che cazzo volete voi, sarete felici, perché se fate che cazzo vogliono gli altri, non sarete mai felici, per essere felici, bisogna fare quello che vogliamo noi, non quello che vogliono gli altri, e questo è, diciamo, è questo quello che bisogna, in segreto, ma questo era un esempio, Warmore, era un esempio per dire, la Befana capisce sempre tutto al contrario e a scoppio ritardato, perché la Befana non capisce subito, la Befana Warmore, era un esempio per dire che cosa? Per dire che la legge di attrazione prevede anche delle azioni, non potete, cioè per legge di attrazione dimagrire mentre sbafate, mentre vi sbafate i barattoli di Nutella come Fagliana, che secondo me si piglia barattoloni di Nutella al supermercato, quelli da 5 chili, si mette lì e li mangia, e poi dice cazzo non sono dimagrita, e ci credo che non sei dimagrita, mangi come una fogna, ingrasserai come una zampogna, per legge di attrazione è questo, però se invece vi fa piacere essere grassi, pesare 300 chili, mangiate come i maiali e vedrete che ingrasserete, no? Questo è la cosa fondamentale, insomma. Allora, quindi, diciamo che la legge di attrazione è, diciamo, un qualcosa che viene tramandato in tutti i circoli esoterici, in tutti i circoli esoterici, ma già i templari, ma anche la masoneria, gli alchimisti, gli ermetici, era un po', diciamo, il segreto, tra virgolette, della vita, però, beh, basta pensare, ad esempio, alla tavola di cristallo, no? Di Ermete Trismegisto, Ermete Trismegisto, diciamo, quella sua tavola, la cosiddetta tavola di cristallo, no? Che, secondo la leggenda, diciamo, sarebbe stata trovata in Egitto, in epoca pre-cristiana, no? Quindi Ermete Trismegisto dicono che abbia trascritto il testo su una lastra di smeraldo con una punta di diamante, no? E che, diciamo, e che, e che sia stata, mi sembra, la moglie di Abramo, Sara, no? Che ha trovato nella sua tomba. Quindi, già la legge di attrazione era già, un saluto a Barbara Costa, brava, che si è abbonata anche alla nostra, ricordo che chi volesse abbonarsi, basta che clicchi sul tasto abbonati, tanto qua l'abbonamento costa un euro, o un euro e novanta, non so che cosa potete abbonarvi. Beh, su questa tavola, ci so, c'erano il segreto della legge di attrazione, tra virgolette, era già scritta nella tavola, appunto, la tavola esmeraldina di Ermete Trismegisto. Ermete Trismegisto, poi, è una figura mitica. C'era scritta, praticamente, la legge di attrazione, come sopra, così sotto. Era una delle frasi, no? La famosa frase esoterica, come sopra, così sotto, era scritta sulla tavola esmeraldina di Ermete Trismegisto, Ermete Trismegisto, che poi, appunto, era, era la legge, la legge di attrazione, no? Quindi, questa tavola, diciamo, era una delle più antiche, no? Dei più antichi, scritti in possesso dell'essere umano. Quindi, la legge di attrazione, la conoscenza della legge di attrazione, è sempre stata presente in tutte le tradizioni, no? È nata con l'uomo, fondamentalmente. Anche tutte le grandi, anche tutte le grandi religioni, no? L'induismo, il buddismo, ma anche l'ebraismo, ma anche il cristianesimo, ma anche l'islam, addirittura, hanno, diciamo, parlano comunque della legge, parlano comunque della legge di attrazione. Ma se voi pensate la preghiera, però, ora et labora, no? Cioè, fai, prega, ma fai anche, perché ora et labora, vuol dire che se tu preghi, e poi però ti fai le pippe, ma anche nel buddismo, ovviamente, entrare in sintonia con l'universo, è fondamentale nel buddismo, ma anche Ermete Trismegisto, ad esempio, secondo, appunto, Ermete Trismegisto, la vita è un connubio, diciamo, già all'epoca, no? di energia ed emozioni. Quindi, noi siamo, e poi arriviamo poi alla quantistica, noi siamo connessi, ciao Robertino Pagano, abbiamo anche Robertino, noi siamo connessi, di fatto, con tutto l'universo. Anche, ripeto, questo testo antico, antichissimo, della tavola esmeraldina, di Ermete Trismegisto, afferma che, cioè, millenni prima dell'avvento della quantistica, misi in evidenza il fatto che l'universo è, diciamo, fatto di energia, è in continuo cambiamento, e noi dobbiamo imparare a gestire questo cambiamento, essere parte attiva, non essere parte passiva. Tutto quello che tu fai, tutto quello che tu fai, genera, tutto quello che tu fai, genera delle conseguenze. E questo è un punto, è il simile, attira il simile. Legge attrazione, possiamo dire che è la legge della creazione, se vogliamo. creare, creare delle cose fondamentali. Questa è la cosa principale che dobbiamo imparare a fare. Tutti noi creiamo la nostra vita, non soltanto con il pensiero, come pensano le cose, esatto, brava, così in cielo, così in terra, brava, come in cielo, così in terra, come sopra, e così sotto. Tutte le tradizioni hanno, diciamo, tutte le tradizioni hanno questa legge, che poi fondamentalmente è la legge della traduzione, quello che noi facciamo, ci genera, diciamo, dei problemi. Ogni pensiero genera, può generare dei problemi. Buonasera, Christian. Ogni pensiero può generare dei problemi, oppure può generare delle soluzioni. Dipende poi dalle azioni che di conseguenza facciamo, no? L'essere umano pensa in ogni attimo della sua vita, però dobbiamo anche imparare ad agire, perché come diceva il nostro ermete trismegisto, soltanto attraverso l'azione noi possiamo ottenere dei risultati. La cosa interessante è che questa tavola esmeraldina scritta migliaia di anni fa, non si sa esattamente l'origine, però in epoca fortemente pre-cristiana, è, diciamo, un qualcosa che è, diciamo, se vogliamo, un precursore della legge d'attrazione e anche della quantistica. Meditazione significa meditazione. Vedete che nella meditazione, come dice giustamente Lola, c'è anche la parola azione. Quindi noi dobbiamo imparare ad agire e uscire fuori dalla dicotomia, diciamo, uscire fuori dalla dicotomia mente-pensiero, perché noi siamo sia mente che pensiero, siamo sia pensiero che azione. Certo è che partendo, diciamo, dal presupposto, diciamo, che gli studi di Cartesio, ma, e questo fa parte un po' dell'evoluzione della storia della scienza, perché noi purtroppo siamo figli di Cartesio e siamo figli di Newton culturalmente, perché anche se Newton, diciamo, è stato superato non soltanto dalla quantistica, ma anche dalla relatività generale ristretta di Einstein, noi siamo purtroppo ancora figli di Cartesio, siamo ancora figli di Newton, e diciamo, ma già Einstein, eccolo qua, Don Matteo, già Einstein con la sua equazione E uguale a MC quadro, che unisce l'energia con la materia e afferma che l'energia sono, come l'ha corazzata Potionchi, sono, diciamo, materia e energia sono totalmente intercambiabili, perché di fatto questo è, materia e energia sono totalmente intercambiabili, la massa si può trasformare in energia e l'energia si può trasformare in massa, è quello che avviene ad esempio al CERN, al CERN quando fanno scontrare delle particelle e trasformano massa e energia, però l'energia può poi anche ritrasformare, ritrasformarsi in mazza, in mazza, in massa. grazie Angelica, grazie Don Matteo che è al massimo dietro. Queste sono un po' cose che dobbiamo rendercene conto, no? Beh, la quantistica poi ha stravolto tantissime cose, la scoperta che la luce, diciamo, in determinate circostanze si comporta anche come nell'intervista che ho fatto con la nostra, anche nell'intervista che ho fatto con la nostra Elena Giulia, la fisica quantistica, beh, lascia sempre un po' sgomenti, no? Il fatto di scoprire che la luce, i quanti, i luce, i fotoni si comportano come un'onda, talvolta, talvolta si comportano come una particella, ma soprattutto che le particelle subatomiche sono in un mondo virtuale, fin tanto che non vengono misurate. questo è una è una cosa fondamentale, no? Capire che noi attraverso il nostro pensiero, ma attraverso le nostre azioni possiamo creare, possiamo creare gli universi, possiamo creare nuovi universi, quindi, però dobbiamo prima eliminare i pensieri negativi, perché purtroppo siamo abituati a che cosa? Siamo abituati a realizzare i pensieri negativi, perché le paure tendono ad attrarci. Le paure sono energetiche, sono fortemente energetiche le paure, e quindi la paura diciamo ha una una particolare forza di attrazione. Ora, quindi, dobbiamo cercare di imparare a gestire le cose. Ovviamente, qua in Occidente, diciamo, la legge di attrazione non è venuta, non siamo venuti a conoscenza la maggior parte delle persone della legge di attrazione tramite la tavola esmeraldina di Ermete Trismegisto, ma siamo venuti a conoscenza della legge di attrazione per un libro, il famoso libro The Secret, che poi è diventato anche un film, che però ha avuto un pregio, un beneficio, il pregio è quello di divulgare da un certo punto di vista il discorso della legge di attrazione, dall'altro lasciando un po' tutto legato al pensiero, no? Ma sicuramente il pensiero influisce, perché se una persona si sente depressa sarà scontenta di tutto, se una persona è invidiosa avrà sentimenti negativi verso gli altri e diciamo e attrarrà situazioni negative, non basta dire voglio essere felice, voglio innamorarmi, voglio trovare un lavoro che mi soddisfi, voglio che tutto cambi, devi necessariamente agire, perché agire, ma agire con piacere, agire con gioia, sicuramente sostituire pensieri negativi con pensieri positivi, ma agire è l'azione, ma l'azione deve essere un qualcosa che ti dà gioia e soprattutto abbandonare le cose che non ti danno gioia, se un lavoro non ti piace mandala a cagare il lavoro, non importa che ti faccia guadagnare o non ti faccia guadagnare, lascia il lavoro, troverai qualcosa, se una persona non ti va, lascia quella persona, vattene a trovare un'altra, oppure resta senza, cioè impara a stare da solo, impara a stare da sola, legge l'attrazione ci insegna che bisogna agire con determinazione per ottenere quello che vogliamo nella nostra vita, non basta solamente il pensiero, bisogna attirare quello che desideriamo attraverso l'azione, perché sennò ripeto, tu puoi pensare anche dimagrisco, 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 ma se pensi dimagrisco, 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 e fai come Don Matteo che si sbaffa delle tonnellate, barattoloni di Nutella una dopo l'altra, mangio come un maiale, è ovvio che diventerai una botta e una balena, e non basta dire dimagrisco, dimagrisco, voglio dimagrire, devi mettere in atto le lezioni corrispondenti, come possiamo formare l'universo con il pensiero? beh, il pensiero deve essere seguito da una decisione e da un'azione, quindi il principio è legge attrazione, è pensiero, decisione e azione, la crema novi, esatto, pensiero, decisione e azione, cioè io devo prima pensare, perché è ovvio che se non penso neanche una cosa non potrò mai realizzarla, prima cosa che devo fare è il pensiero, una volta che ho pensato devo decidere di agire in qualche modo e poi devo fare le azioni, sì ma non è una live domanda e risposte questa, carampana, non è una live domanda e risposte, comunque la domanda, come possiamo formulare, formare, formare l'universo con il pensiero, ti sto rispondendo, Devi agire anche, quello che tu vuoi diventare, vuoi essere, vuoi ottenere, devi agirlo, pensieri, parole, opere, domissioni, esatto, questo lo dicevano anche i gesuiti, pensieri, parole, non so se erano i gesuiti o se erano l'opus dei, non mi ricordo se pensieri, parole, opere, missioni, forse dell'opus dei, comunque, se è qualcosa dell'opus dei, potrebbe essere, bisogna imparare a esercitare, pensieri, parole, opere, omissioni, il pensiero è all'inizio, però poi ci devono essere le cose, ci devono essere le azioni che dobbiamo fare, certo, dobbiamo focalizzare il nostro pensiero, il pensiero positivo è importantissimo, ad esempio, dobbiamo imparare a, opus grey, dobbiamo imparare a, come possiamo dire, a focalizzare il nostro pensiero, e qui, ad esempio, ripeterci le cose come un mantra è fondamentale, quindi come esercizi pratici, ripetetevi le cose come un mantra, scrivetevi le cose, perché scripta, sì, verba volant, scripta manet, scrivete le cose, scrivete, voglio essere felice, voglio ottenere la promozione, voglio trovare il lavoro che mi piace, scrivetele anche nei, perché dovete imparare a, diciamo, governare i vostri pensieri per trasformarli poi in azioni, beh, se viene un pensiero negativo, basta non dargli, non invitarlo a casa, offrirgli te con i pasticcini, cara, carampana, se viene un pensiero negativo, lascia, lo lascia andare via, non li devi, i pensieri negativi, verranno, ma se tu non li alimenti, spareranno, no, questo, è quello che diceva anche, in quella famosa metafora, no, dentro di noi c'è un lupo bianco e un lupo nero, no, rappresentazione metaforica del bene e del male, e il ragazzo ha detto, ma maestro, ma chi vince tra il lupo bianco e il lupo nero, e il maestro gli ha detto, vince quello a cui dai cibo, quello che lo nutri, se tu, come dire, arriva al pensiero negativo, tu lo inviti a pranzo, e lo fai sedere, e gli offri un bicchiere di vino, ah, pensiero negativo, ci rimugini sopra, iiii, mi ha lasciato, uuuu, mi ha lasciato, iiii, non valgo niente, iiii, ma come mai mi ha lasciato, e inizi a rimuginare sopra, è il rimuginare, no, che, che, come dire, trasforma l'imprinting in turbamento, quello che, chi ha seguito il corso sull'imprinting, cioè, è uno dei concetti fondamentali, no, vabbè che voi tanto siete carampane, vi sarete già dimenticati, perché siete anziani, però, diciamo, la cosa importante, la cosa importante è che dovete trasformare i pensieri in azioni, e dovete, diciamo, evitare di rimuginare sui pensieri negativi, oh, saluto anche Antonella, perché se state a rimuginare sui pensieri negativi, questi diventeranno sempre più negativi, la mente vuole cambiare, questo è il primo cambiamento, ma poi il corpo deve allinearsi con la mente, quindi è fondamentale questo, agire, fare degli atti di coraggio, no, evitate di fare gesti automatici, azioni automatiche, senza neanche pensare, quando agite, quando pensate, diventate consapevoli, avete un metapensiero, perché altrimenti sarà la vostra vita che vi governerà, diciamo, e non sarete voi, come dire, la tigre che vi cavalca, e non sarete voi a cavalcare la tigre, ogni volta che rimugini, praticamente ricrei le stesse situazioni, è come se programmassi il tuo cervello a fare sempre le stesse cose, e invece devi cambiare completamente, secondo, diciamo, il modello quantistico, che è il modello della creatività, ecco, quindi, ristrutturare i pensieri, esatto, quello dell'ombrello, ristrutturare da pensieri, vivere dieci anni da leono, cento da pecore, credo che sia una scelta per tutti, ma le persone, ripeto, hanno paura, sono le nostre paure che ci vincono, e che ci impediscono di ottenere quello che vogliamo, perché sono le nostre paure che ci impediscono, di cambiare lavoro, di cambiare partner, di fare delle scelte, talvolta, la sicurezza non c'è mai, in ogni scelta che noi facciamo, ma la sicurezza non ce l'avete neanche quando attraversate la strada, potrebbe arrivare una macchina e tirarvi sotto, la sicurezza non ce l'avete neanche quando scendete le scale, diciamo, o quando attraversate un ponte, no, pensate a quelli che sono andati sul ponte di Genova, mai più, se gli avessero detto, non passare sul ponte lì, Morandi, che è pericoloso, e potresti morire, quelli che avrebbero resi in faccia, no, perché fin tanto che il ponte Morandi non è crollato, era impensabile, no, sarebbe stato l'ultimo motivo per cui uno pensava di poterci lasciare le piume, neppure è capitato anche quello, quindi non c'è niente di completamente sicuro nella vita e in quello che facciamo, quindi tanto vale, bisogna cercare di correre dei rischi, rischi calcolati finché volete, non c'ho un fazzoletto, rischi calcolati finché volete, però vanno affrontati fondamentalmente, questo vado a prendere un fazzoletto, questo è un concetto fondamentale, no, quindi scrivere è importante, ma poi è importante agire, è importante agire, dovete imparare a fare queste cose, no, bisogna imparare a trascendere anche un po' le cose che facciamo e lavorare intensamente, lavorare intensamente sul passato, lavorare intensamente diciamo sul presente e impegnarsi attraverso atti di coraggio a fare dei cambiamenti, cercare di eliminare le abitudini inconsce negative, che sicuramente tu cara Malga Sean avrai creato nel corso degli anni, quindi elimina i sensi di colpa, perché tu sei perfetto così come sei, poi puoi cambiare i comportamenti, ma bisogna imparare a sperimentare queste cose, e bisogna imparare a dare spazio alle emozioni positive, le emozioni positive sono l'entusiasmo, la gioia, la gratitudine, l'amore, e eliminare i veleni mentali il più possibile, non alimentarli, non alimentare rabbia, non alimentare rimorso, non alimentare rancore, non alimentare invidia, le emozioni sono fondamentali in questo percorso, sono diciamo la prima reazione ai tuoi pensieri, che diciamo sono un po' la causa di tutto, per applicare la legge dell'attrazione è importante essere disponibili al miglioramento, quindi essere disponibili a dare spazio alle emozioni buone, alle emozioni positive, entusiasmo, gioia, gratitudine, amore, e non alimentare quelle negative, quindi questo è il concetto di fondo, è la cosa fondamentale, anche slegarsi un po' dai vincoli, che noi abbiamo creato diciamo dei vincoli negativi, delle abitudini negativi che noi abbiamo creato tutti questi anni, questo è fondamentale, certo poi è importante anche la visualizzazione, è importante anche utilizzare il pensiero, però diciamo dobbiamo anche credere in quello che facciamo, in quello che pensiamo, perché avere fede in noi stessi è fondamentale, se tu per prima fai le cose, ecco questo è un altro punto importante, devi avere fede in quello che fai, perché se tu agisci e non hai fede, non hai fiducia in te stesso, agirai svogliatamente, mantenere distacco dal risultato, ma avere fede, avere fede, se fai tutto questo, vedrai che l'universo inizierà a muoversi, l'entusiasmo come dice Eliane è fondamentale, enteos ziasmos, entusiasmo vuol dire essere in contatto col divino che abbiamo dentro, enteos ziasmos, questo è molto importante, l'entusiasmo è l'emozione molto forte, perché ti mette in contatto con la propria divinità interiore, perché come diceva Sei Baba, io sono Dio, anche tu sei Dio, diceva Sei Baba, la differenza tra me e te è che io so di essere Dio e tu non lo sai, questo è un po' il concetto di fondo, quindi questo è fondamentale, non devi mai avere dei dubbi su di te, puoi avere dei dubbi su tutti, ma non devi mai avere dei dubbi su di te, perché tu sei la persona più importante del mondo, per te stesso devi essere la persona più importante del mondo, e quindi queste sono un po' le basi fondamentali, fondamentali diciamo della legge d'attrazione, che ci permettono di raggiungere dei risultati, e poi anche diciamo amare se stessi, come diceva anche il Dalai Lama, il Dalai Lama diceva che perseguire la felicità deve essere lo scopo della vita, non importa qual è se sei di una religione, se non sei di nessuna religione, ma come dire avere lo scopo veramente della vita, dovrebbe essere perseguire la felicità, e quindi eliminare drasticamente le emozioni negative, l'insoddisfazione, la scarsa autostima, la paura, il senso di colpa, l'incertezza, l'angoscia, il panico, l'infelicità, sono tutte emozioni che vanno eliminate, non dobbiamo più che eliminarle, non dobbiamo alimentarle, nei momenti in cui arrivano dobbiamo lasciarle andare, come nel gioco che ha scritto qualcuno, lasciarle andare senza dargli cibo, il bambino piccolo è diciamo a paura, ma noi dobbiamo diventare degli adulti, questo è fondamentale, no? La vita esiste perché io esisto, bravo, già è vero, la vita esiste perché io esisto, poi ognuno può avere tutte le credenze che vuole, però dobbiamo imparare a sviluppare, diciamo, dei pensieri che ci portino gioia, soddisfazione, che ci portino benessere, che potenzino, insomma, la nostra, la possibilità di essere felici, non è che dobbiamo, possiamo anche raggiungere l'illuminazione, ma la cosa importante è raggiungere, diciamo, uno stato di benessere anteriore, questa è la cosa fondamentale, ecco, in questo modo riusciremo a far sì che le cose possano accadere, fondamentalmente, nella nostra vita, quindi anche la meditazione è molto importante per condizionare, iniziare a condizionare i nostri pensieri, che poi condizioneranno le nostre decisioni, le nostre azioni, quindi ogni giorno dovresti dedicare un po' di tempo alla meditazione, metterti, diciamo, in una posizione comoda, con le spalle rilassate ma non tese, la schiena è retta, e concentrate, ad esempio, semplicemente sul respiro, no? Inspiro, espiro, mi concentro semplicemente sul respiro, e tutta la mia vita diventa il respiro, non c'è nient'altro, io sono solo io il mio respiro, io divento il mio respiro, in questo modo riesci a, diciamo, vivere pienamente il qui ed ora, e hai una dilattazione temporale molto grande, no? Una dilattazione temporale molto grande, perché nel momento in cui sei nel qui ed ora, diciamo che l'attimo si confonde con l'eternità, perché se ci pensate bene, attimo e l'eternità sono la stessa cosa, per quale motivo? Perché l'attimo non varia, e quindi l'attimo è eterno, se ci pensate bene, è un concetto molto interessante questo, l'unica cosa eterna è l'attimo, perché l'attimo non cambia, l'attimo non cambia, e allora l'attimo diventa eterno, e quindi tu puoi trasformare veramente, essendo concentrato nel qui ed ora, essendo concentrato nel qui ed ora, tu puoi ottenere veramente un passo fondamentale, quello di dilatare completamente il tempo, poi diciamo una cosa, amare a se stessi non vuol dire né essere egocentrici, né essere egoisti, perché se tu non ami te stesso, non potrai mai tirare amore nella tua vita, e quindi amare profondamente non vuol dire mors tua vita mea, amare profondamente a se stessi vuol dire amare anche tutto ciò che ci circonda, perché noi non possiamo, come dire, amare noi stessi, se non amiamo neanche gli altri, allora sì che diventa un atto di puro egoismo, ma noi siamo in interdipendenza con tutto quello che ci circonda, quindi questo è il concetto che noi dobbiamo imparare, le cose che dobbiamo imparare a fare, questo è veramente fondamentale, questo è la cosa principale che dovete imparare a fare, bene, detto questo, mando un saluto a tutti, siamo, abbiamo fatto un'ora di live, quindi abbonatevi al canale, cari e carampane, seguitemi su Instagram, seguitemi su TikTok, e abbonatevi al canale.